La lista civica Una città in comune dell'assessore pesarese Enzo Belloni apre ufficialmente le porte della propria sede e si presenta alla cittadinanza in vista delle elezioni amministrative di giugno. L'obiettivo, dichiarato da Belloni, è quota 4.000 voti in uno scenario che, secondo l'assessore, li vede come lago della bilancia. Siamo operativi, siamo carichi, siamo in tanti e abbiamo appena iniziato un percorso di condivisione di quelle che possono essere le idee, le proposte da fare alla cittadinanza. Stiamo aumentando come numero di aderenti alla lista. Oggi è un'occasione per presentarci alla città, non solo come ufficio, come sede, che cercheremo di tenere aperto anche al mattino, in qualche ora, al pomeriggio, più la sera, per incontrarci assieme agli amici della lista e capire quali sono le sensibilità e le richieste della comunità. Noi, diciamo, le idee le abbiamo abbastanza chiare, però io dico 100 test ragionano meglio di 2, di 3 o di 10. Abbiamo predisposto dei moduli da consegnare manualmente, in più ci sarà la possibilità di accedere online e compilare i moduli e farci avere un'idea ancora più chiara di quelle che sono le sensibilità della città. Una lista deve essere composta non da 32 persone che la vedono stesso modo, ma visioni differenti che poi in qualche modo fanno una sintesi e ci danno la possibilità di dare ai cittadini le risposte migliori possibili. Ovviamente noi riusciremo a... non abbiamo la bacchetta magica, però abbiamo la voglia e l'energia di metterci in gioco. Per portare avanti quelle che sono le nostre idee, per continuare il lavoro che abbiamo iniziato, per esempio uno su tutti sul Parco Miralfiore, dove in qualche modo come lista, come Consiglio Comunale, come consiglieri, con Sergio Castellani, con Giorgio Renardi ci siamo spesi molto, affrontando anche battaglie non facili, però ci abbiamo creduto e devo dire, la serata dedicata alle luccele, per esempio, ci ha dato un po' in qualche modo il valore del lavoro che abbiamo fatto, vedere alla sera alle 10 e mezza famiglie con i bambini dentro il parco penso che non si era mai visto.